Come posso raccontare la guerra? Come posso raccontare il deserto che lascia dietro di sé? Ma questo non deve impedire ai bambini di tornare a sorridere. Come posso raccontare l'emozione che ho provato quando li ho visti rinascere? Grazie alle missioni Smile Train in Iraq e Afghanistan, ora possono sorridere. Aiutatemi a raccontarvi ancora storie a lieto fine. Venite con me e salite sul treno del sorriso. Grazie a tutti.